Ministro Otmar Udiber, ultimo tempo, ha pretender di essere più transparente con la Ruba, sin embargo, mi chiede a ricordare a Ministro Otmar Udiber di alcune cose. Non solo abbiamo detto che non tutti noi abbiamo conto l'annuale del Parlamento e non tutti noi abbiamo rapporto di un problema che è passato a lei, però ora che non mi ha appunto il Ministro sua attenzione, va e carta con il nostro mandato che si chiama il 30 di marzo con 25 preguntas. E' carta che non ha detto che il Ministro abbia una discussione con il periodista ora il periodista ha questionato la compagnia che ha il suo amico che ha interesse nel G, ma nel Graphics & Beyond, che tratta del logo di Aruba, che mi ha detto che lo ha regalato a un amico di G, che ha pagato la placa di G. E' anche se non ha detto se non ha detto che la compagnia Damox, se non ha detto se non ha detto il logo, i Graphics & Beyond, se non ha detto se non ha detto il banner. E' anche se non ha detto se non ha detto se non ha detto il radio di Power FM, e che non ha detto se non ha detto se non ha detto che la compagnia è un amico di G. E' un amico di G, che è un amico di G, che è un amico di G. E' un amico di G, che è un amico di G, che ha detto che la gente NAM advance, Ora, già accade, non sto cercando di dare a metà di me, e non c'è il contesto di ammettere la sinistra trasparente qui. Se non passa, non sto mandando un reminder per ammettere, un rappel di oggi, è il primo rappel, non c'è il contesto, non sto obbligato di seguire a mandare il rappel, ma c'è questa informazione non è importante. Cosa passa? Da un momento, un periodista, per un motivo, come non ho prometto, ha deciso di questionare ammettere la pratica con la mostra questionabile e corruzione. Cosa è privilizzare un amico che ha una compagnia che c'è che si può lanciare un logo che si può otorger un po' di tempo a me. Cosa c'è un nome di una compagnia che si può otorger un'altra compagnia. Cosa c'è un nome di una compagnia che si può cambiare e che ci sono dei dettagli un po' di più, per aver guardato un po' di più. Cosa c'è un assunto di un radio. Cosa c'è una domanda che si può questionare, non è un periodista che si può fare un esportivo, ma c'è una domanda che si può fare un esportivo, che si può fare un esportivo. Ma c'è un esportivo, ma c'è un esportivo che si può fare un esportivo, che si può fare un esportivo e fare un esportivo con la verità, per fare un esportivo. che si può fare un esportivo, ma c'è un esportivo. che si può fare un esportivo, ma c'è un esportivo che si può fare un esportivo. che si può fare un esportivo, ma c'è un esportivo che si può fare un esportivo. che si può fare un esportivo che si può fare un esportivo che si può fare un esportivo. e che si può fare un esportivo che si può fare un esportivo e che si può fare un esportivo con le persone che si può fare un esportivo. è altro caso.